Ehi la ciurma! Benvenuti in questo nuovissimo episodio di una nuovissima serie. Io sono mazzetesto, tra virgolette. Tra parentesi, perché le parentesi sono diverse. È un titolo che volevo portarvi già da mo, nel senso era in un bundle tempo fa. Yeah, perché no? Spero che non fosse troppo forte quello. Adesso diminuisco magari un attimo. Del team 17 poco conosciuto, ma secondo me vale molto la pena. Lo sto giocando con controller, tra l'altro. Proviamo così. In single player punto ho a fare la trilogia, avendo tutti e tre. Questo è Alien Breed Impact. C'è Alien Breed 2 Descent e Alien Breed 3... non mi ricordo più, però... boh. Modalità storia. Io, allora, andrei con la nuova. Il primo l'ho finito, sì. Io andrei di... Proviamo veterano? Proviamo, male che vada, cambiamo la difficoltà. Il primo l'ho finito, il secondo ne ho fatto metà e il terzo... Lo l'ho ancora fatto. Ah, è in inglese, scusatemi, ma è solo in inglese. Chi c'è qua? Il logotenente Mia. Sì? Vorrei parlare con te. È stata... analizzata una... anomalia nella gravità. Conrad, perché ho di sintet... Oddio! È morto, eh? No. Riesci a camminare? Abbiamo colpito qualcosa, mi hai salvato. Non ti preoccupare, è ingegnere capo. Vieni! Aspetta! Devo arrivare il ponte. È la missione? Siamo probabilmente tutti morti. Il ponte superiore è distrutto. Magari posso aiutare. È negativo. Il reattore è distrutto. Ah, no. Devi spegnere il reattore prima che esploda. Eh, se lo fa siamo tutti morti. Quindi dobbiamo andare al reattore e cercare di spegnerlo, ecco, per... Cercare di... Allora, aspetta. Voi dovessi primare per muovere il tuo personaggio. Con questo si mira. Qua apriamo l'armadietto. Ok, questi ruotano qua. Con questo spara. Con questo usa il medikit. Con questo ricarica per cambiare l'arma, invece non ricordo. Ok, questo è l'attacco corpo a corpo. Non ricordo, ma effettivamente forse adesso non abbiamo un Kaiser, quindi... Ah, qua c'è il fusibile a porta. Dobbiamo riparare la porta danneggiata, quindi probabilmente... Dov'è? Ah, ok, ecco qua. Temo che inizino ad arrivare già qua i primi... ...pericoli. Allora, l'obiettivo è segnato sullo scanner là. Però credo di non poter passare di qua. Kit medikit piccolo. X e Z. Eh... Però cosa... Quali sono qua? No. Con questo spara, con questo usa quello, ma... Qua ricarica. Eh... No, no, non ricordo proprio cosa... Ah, ok. Questo e questo. Il... Non l'analogico, ma l'altro. Eccolo. Che non mi ricordo più com'è. Il... Boh. Con questo si corre. Perfetto. Qua è bloccato. No. Ok. Iniziano già i primi... No, 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 no. Cos'ho fatto? No. Allora, analizziamo qua. Trovo una torcia. Dove... Ah, qua sotto mi dice di andare. L'hai chiuso. Effettivamente non si vede un Kaiser qua da queste parti qua. Eh... Proviamo a... Andare di qua. Armadietto. Mmm. Mille crediti. Ecco, i crediti serviranno poi per le macchinette automatiche. Che io dico, sei in un problema, non è che devi metterti a comprare la roba. E invece no, la nostra astronome ci venderà la roba. Ci venderà la roba e noi dobbiamo cercare di sopravvivere a... Degli schifi che girano qua da queste parti. Eh... Di là non si può passare, credo. No. Mmm, l'unica zona in cui si può passare è di là, ma non c'è un Kaiser. Qua l'abbiamo già esplorato. Allora, vediamo qua. Qua, ecco, qua non l'abbiamo esplorato bene. Ci sarà qua qualcosa. Ok. Tutto non sembra molto rassicurante, effettivamente, ma... Le granate estordenti... Le raccolgo perché posso venderle. Non le utilizzo io da stile di gioco, ecco. Non sono nel mio stile, ma... Ehm... No, questi vetri non posso romperli. Sì, i riconoscimenti sono i soldi. Ah no, ecco... Di ciò che era in inglese, ma solo la storia, in effetti, in inglese. Il resto è in italiano. E si capisce abbastanza senza troppi problemi, ecco. Ehm... Pfff, niente, non c'è un Kaiser nemmeno qua. Qua sotto è penalizzato. Ecco, questa è la zona dove si può salvare. E dove si possono comprare delle... Armi e munizioni. Allora, io munizioni qua ne ho. Le comprerei ancora un po'. E venderei quelle del cannone, che è un po' come un fucile... Un fucilazzo, insomma. Fa pochi colpi potenti, ma io sono più da mitragliette, diciamo. Perché non sono molto preciso con la mira e quindi... Ecco. Vendi oggetti. Allora, io venderei le due granate estordenti e la granata frammentazione per ora. Metterei medikit, magari qualche medikit in più. Ecco, un piccolo lo prendiamo. Essenzialmente lo renderei su armi. Su questo... Niente, costano davvero troppo. Questa è quella migliore di tutti, ma... 6000 sono parecchio. Salvo i progressi. Facciamo su... Quello è che era l'ultimo di quelli... L'ultimo. Quindi salviamo sul primo, sì. Allora, è tutto chiuso. Qua... Sembra tutto chiuso. Sì... Là sotto c'è un armadietto però, ma non può succedere da questo lato. E qua è chiuso. Allora... Là è bloccato. Forse bisogna salire di su... A chiave magnetica. Noi l'abbiamo presa la chiave magnetica, effettivamente. Perfetto. Ci sarà qualcuno qua intorno. Se ci dice come possiamo sparare, credo che ci sarà qualcuno. Sì, ho sentito qualcosa. No, con cos'era? Dove? 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 Dove è andato? Boh. Era quello dietro e ho usato quello avanti? I dannabon... In... In realtà... Cioè, appunto, come vi dicevo prima, è un... Pokémon lo gioco perché era da tanto che volevo farne una serie, ma... Ho già preso un fracco di danni così, giusto perché non mi ricordavo il tasto. Questa funziona? Sì, perfetto. Noi stiamo cercando la torcia, però se non sbaglio... Che però ci indicava tutto da un'altra parte. Qua siamo entrati? No? Ah, però possiamo sfondare di qua. Così. Ah, eccola, eccola, eccola. Perfetto, che è molto meglio ora perché almeno possiamo vedere dove stiamo andando, essendo puntata... Diciamo sul... Quelle porte sono molto comode perché solitamente questi alienuncoli... Ehm... 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 È morto. Ah, perché si, e' suicida, no? Sti scemi. Ehm... Cerchiamo di recuperare quello che si può 500 crediti Mulla Bon, qua ci siamo Allora adesso che c'è C'è dell'acqua Dobbiamo cercare di arrivare al reattore Ma probabilmente il reattore avrà qualche Problema che dovremmo risolvere Vediamo qua sotto se c'è qualcosa Sì, e poi qua è bloccato Quindi dobbiamo tornare indietro dall'altra parte Allora Perché continuo a usare Il comando sbagliato Non lo so, posso No, non ancora Armadietto Niente Così così andrei a usarmi un piccolo medikit Per evitare grane ma Ci sono i gas, ecco non posso accedere di là Allora qua È molto più comodo mirando Ma mirando vuol dire che bisogna tenere tutte e due le levette E diventa un po' incasinato il tutto Allora noi dobbiamo andare Qua è bugato tutto Ora non posso spegnerlo Eppure bisogna cercare di spegnere questa ambarda Pericolo di incendio Eh, sì infatti Il computer non risponde ai comandi Naturalmente E E la porta è disattivata Anche Là c'è un mal funzionamento elettrico Quindi Ah, ecco Spegnimento del reattore Perfetto Dobbiamo lavorarci qua E probabilmente arriveranno Delle schifezze nel frattempo qua No Quello secondario Dov'è quello secondario però? Disattivi sistemi ambientali Ma dove sono i sistemi ambientali? È qua Ah, ok Ok E ci devo arrivare io Per disattivare il fuoco? Ma Allora Dobbiamo Disattivare il generatore secondario Sta zona non mi rende Particolarmente tranquillo Ok Ok, and now Sospento Chi è? Non mi piace Temo che non arriveremo in tempo Infatti Ce n'è altri qua? No Allora Andiamo qua Ok Ok Il Capacitator Andiamo Andiamo Però qua è chiuso No, devo passare di qua? Ma come ci arrivo di là? Eh, lì Sono offline questi Birbantello Sono offline Qua anche Ah, disattiva i sistemi Lighter Quindi qua Ce la si fa? Bueno Ok Mi piace di più Questa visuale Così Di qua Ok Per fortuna La zona Cioè La fare Knockback Quindi Ho bisogno Un po' più di munizioni Io corro come ora Perché non c'è un Kaiser Nulla Eh, ok Però Se non troviamo degli ambaradan Qua è un po' un casino Una registrazione Che non fa mai male Non so cosa c'è Ah, legge le annotazioni Con il Chieve magnetica Ma l'abbiamo raccolta Prima se non sbaglio E in effetti Eccoci qua Toto Uzzio Non bloccarmi Il casino è che Quando questi Appaiono Porca Ad una miseria Ti bloccano Quello che stai facendo Quindi Perché non mi fa usare Ah, ok Kit medic Kit piccolo Ho usato Ne devo usare un altro Però Non è che danno Chissà che cosa Effettivamente Questi kit medici Kit piccoli E quindi Se ti interrompono Devi ricominciare da capo Eccola Ah no Si è schiantato contro la porta Beh, l'ho al meglio Dobbiamo tornare al Capacitator No, eccolo Ma che scemo Mi sono passato davanti E E non ci ho fatto un Kaiser Infatti mi sembra Stanno solitamente I terminali index Sono abbastanza Intex Sono abbastanza Soddivisi in modo Intelligente Andiamo qua Vediamo un attimo Sì Quanti me ne hai Sì 200 Ne va solo Ma perché effettivamente Questo è pensato Anche per essere Un pochettino più Cioè Abbiamo messo modalità Più complessa Quindi Un kit medico grande Lo prendiamo Direi di sì Venderei la granata Sto è La granata Framentazione Prendiamo anche Quello piccolo Tanto non è che Possiamo farci tanto E Niente Salvataggio E tra l'altro Direi che Ah no L'avevo fatto da recluta Nel primo giro GG Ma non dovrebbe essere Troppo complesso Come questione Visto che abbiamo trovato Il portale Il terminali Index Direi che per questo episodio Possa essere abbastanza Spero che possa Piacervi questa serie Perché è un gioco Davvero molto carino Adesso È appena all'avvio Diciamo Questa è la parte Semi tutorial Quindi Ci vuole un attimo Perché prenda Il lancio Vi invito a Seguire ancora Questa serie Il giovedì Sarà Prenderà il posto La serie principale Quindi Ci rivedremo Ogni lunedì E ogni giovedì Come prima è stato Con Magic Come prima è stato Con Altra roba Ecco Vi invito a lasciare un mi piace A iscrivervi al canale Se per caso non l'aveste già fatto Potete trovarmi su Facebook La pagina è In descrizione Il link alla pagina è in descrizione Ci vediamo Col prossimo video Ciao a tutti ragazzi E buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti